Allora stavo guardando, benvenuto ad Alex Perez, difensore 18 anni del Betis Siviglia che ha avuto la corte di diversi club anche nella Liga ha scelto l'Inter e come dice quel pirla milanista, e come mai, e come mai, quell'altro pirla lì allora arriverà in prestito con riscatto a 3 milioni, verrà aggregato alla prima squadra attenzione con la prospettiva di rimanerci anche dopo il ritiro estiro, prima squadra quindi Bissek, Colosso, arriva anche questo Perez che da quanto leggo lo vorrebbero club nella Liga tipo, tipo, ha anche chiesto il Real Madrid, capito, attenzione, attenzione, attenzione Stel ma lui, cosa ha detto? L'Inter, quando ha sentito l'Inter, l'Inter va bene, arrivo, Alex Perez, benvenuto, la squadra più onesta, pulita e noi siamo i più belli, gobbi di me